Riunione alla Camera di Commercio Pordenone-Udine, organizzata da Confcommercio Udine, per i progetti di rilancio della città. Le prospettive per il finanziamento, contributi e servizi all'impresa. La zona traffico limitato resta al centro delle discussioni. Questa riunione, ricordo, è fatta non solo per la ZTL, ma anche per tutti i servizi degli nostri associati. In parte iniziale parleremo anche della ZTL, come è iniziata, quali sono le nostre priorità che abbiamo già ripetuto. La mancanza di parcheggi a raso, mancanza di parcheggi struttura in delle fasce orari che purtroppo si crea abbastanza caos a livello cittadino e non solo. Commercianti sul piede di guerra, visti i tempi e le difficoltà che si trovano per far ripartire il turismo dello shopping, ulteriormente azzoppato dalla ZTL. Le soluzioni ci sono? Le proteste ce ne sono tantissime. Lei sa, quando si fa una cosa nuova, come diceva l'assessore, le proteste ci stanno. Appunto per questo noi, il giorno 19, avremo un incontro con... abbiamo invitato l'assessore Marchiol e il vice sindaco Venanzi con la presenza del Presidente della Camera di Commercio, il nostro Presidente, a un incontro aperto a tutti gli associati proprio per portare magari eventuali opportunità e delle esigenze che noi stiamo portando avanti adesso con l'assessore Marchiol.